Il progetto nasce ormai diversi anni fa appunto con l'esigenza di mantenere alta l'attenzione su quelle che sono le problematiche visive nell'infanzia, quindi la prevenzione dell'ambiopia in primis che coinvolge un'elevata quantità di bambini, si stima che un bimbo su 30 sia appunto a rischio ambiopia, ma anche altre situazioni presenti nell'infanzia. Il progetto nasce con questo intento, sia quindi da un punto di vista di informazione per il cittadino, e di formazione per gli operatori. Abbiamo organizzato un'iniziativa supportata da testimonia, quali Rocco Papaleo, il noto attore, e Tosca, la nota cantante, che si sono messa a disposizione per lanciare questo messaggio che deve appunto ricordare l'importanza della cosa. E poi organizzeremo per il 27 pomeriggio un'iniziativa un po' particolare, diciamo un momento di incontro tra i cittadini e oculisti e ortotisti per avere magari uno scambio di informazioni, per avere maggiore appunto informazioni sull'importanza delle tematiche che riguardano la vista del bambino. E durante questo evento ci sarà anche un momento simpatico e ludico, che è una estrazione di una tombola. Praticamente è una tombola online, viene fatta attraverso un dispositivo appunto accessibile con la rete, e i premi in palio saranno buoni omaggio per occhiali, lenti a contatto, montature, che dopo lo potranno acquistare dal proprio ottico, messo a disposizione dai vari partner del progetto.